Parliamo di questa associazione, teniamoci per mano Ollus, che lei presiede, Max Gebiola, da chi è composta, qui vedo due nasi rossi, insomma, clown dottori, vero? Ce ne parli. Ciao, buonasera e buonasera a tutti. Vi parlo della nostra associazione, un'associazione di Clownterapia, che è nata dieci anni fa, al momento conta al suo attivo 600 clown in tutta Italia, continuiamo ad aumentare, grazie a Dio, fortunatamente. Come è strutturata? È strutturata in un comitato centrale e in distretti che sono un po' disseminati in tutto il territorio nazionale, partendo dalla Lombardia con Milano, scendendo fino alla punta dell'Italia con Mazzara del Ballo. Abbiamo un po' di sedi sparpagliate, come vi dicevo, in tutta Italia. Ogni sede ha un proprio responsabile di distretto, che praticamente è l'allungamento del braccio del nazionale. Quindi abbiamo un programma unico nazionale e poi i vari distretti che fanno sì che nella realtà locale vengono portate avanti tutte le attività e i progetti che a livello centrale e anche a livello locale vengono ovviamente pianificate e preparate con i volontari. Perché poi ogni realtà ha delle esigenze che possono essere diverse. Quindi a volte nasce un progetto nazionale condiviso da quelli che sono i distretti territoriali, a volte invece nasce un progetto su un territorio che viene poi aiutato e supportato dagli altri distretti italiani. C'è un presidente, un tesoriere, una segreteria nazionale e un consiglio di amministrazione. Adesso stavo salendo troppo, un consiglio direttivo che è formato appunto dai responsabili di distretto e da altre figure come formatori e segretari e tesori. E qui c'è un responsabile di un distretto, quello di Frosinone, Lorenzo Pelloni, ma io lo voglio chiamare Lollo, è clown Lollo, in arte Lollo. Insomma, che cosa significa essere un clown dottore? Bellissima domanda. Allora, innanzitutto banalizzato che cosa significa essere un clown e poi che cos'è un clown dottore. Perché spesso viene un po' generalizzata la cosa, no? Ci sono tante tipologie di clown e noi ci occupiamo proprio di fare clown terapia negli ospedali. Quindi non siamo né attori, non siamo dei trasformisti, dei maghi, non siamo nulla, siamo semplicemente dei volontari che fanno dei corsi per poter poi accedere a delle strutture pubbliche o private e prestare lì il loro servizio di volontariato. E soprattutto divertirsi. Noi quando mi chiedono, spesso mi fanno questa domanda, che cosa significa fare clown terapia, io ripeto, per me è divertirmi in primis io stesso, divertirmi con gli altri. Quindi io non vado a portare sorrisi, vado a divertirmi. E spesso succede che quando io mi diverto, le persone di conseguenza si divertono con me. Quindi vedo genitori, vedo bambini, vedo personale medico-sanitario che si diverte e collabora con noi, gioca, ride e scherza con noi. Quindi questa cosa ci riempie di gioia, significa che stiamo facendo bene quello che dobbiamo fare. E qui abbiamo Max Gebiola, incontenibile, tra un po' lo dovremo legare, non so se alla pianta. Ecco, lei è un clown professionista. Ma che carina che sei. È vero? Posso aggregarmi all'associazione, non ho ancora il naso rosso, ma mi posso attrezzare. Me lo date? Sì, sì, all'onore. Allora, dicevo che Max Gebiola è un clown professionista, insomma insegna quest'arte in tutta Italia, ma anche all'estero. Ma per quale motivo lei ha scelto di mettere la sua capacità, la sua attitudine, il suo divertimento, ecco, al servizio del sociale? Allora, intanto se è possibile ti prego dammi del tu, anche perché io vorrei darti del tu. E andiamo con il tu. Ok, grazie very much. Grazie. Poi tu hai detto una cosa all'inizio, chissà se posso fare anch'io il clown, se posso mettere il naso, me lo date il naso, me lo date il naso, ok. Ti dico una cosa, tutti nasciamo clown. La società, i condizionamenti, il crescere in questa maniera, ce lo fa dimenticare. Quindi il clown non è un progredire, almeno per quanto la vedo io, perché ogni clown ha la sua teoria, ma è un regredire. È tornare alle origini, è tornare a scoprire quello che tu eri. Tornare alla leggerezza, tornare all'autenticità, tornare alla meraviglia. Questo è il clown. Perché lo insegno? Perché il mondo ha bisogno di clown. Bello, mi piace. Poi non è tanto regredire, secondo me. Forse destrutturare forse vuol dire arrivare poi all'essenza. Insomma, io credo che sia un grande passo avanti, almeno io la leggo così. Lorenzo, clown all'ollo, divertirsi per far divertire. Quello che non si riesce a fare su di sé è impossibile trasmetterlo agli altri, negli ospedali, ti hai detto, do del tuo anche a te, ma non solo. Cioè, bambini, adulti, ma qual è il pubblico di riferimento? Chi vogliamo divertire divertendoci? Noi abbiamo, beh, pubblico, chiamiamolo pubblico, passatemi il termine, che non ha età, perché entriamo, quando entriamo in corsia, dietro quella volta possiamo trovare di tutto. Quindi può esserci il bambino piccolo, oppure possiamo entrare in un centro anziani e quindi possiamo trovare dei bambini molto più grandi, ma molto molto simpatici. Possiamo lavorare in tutte le... Oggi, per esempio, abbiamo lavorato nel centro di urno di Frosinone, dove abbiamo trovato dei bambini di tutte le 20 ai 50 anni, però tutti i bambini, perché è bellissimo lavorare con loro, perché conservano la loro naturalezza, la leggerezza dell'essere bambini, di non avere strutture rigide, di non avere una società che li condiziona. E quindi lavorare con queste persone fantastiche ti dà una libertà non indifferente. E spesso noi, che magari facciamo dei lavori stressanti, ci ritroviamo proprio, sentiamo proprio il bisogno di rapportarci alla claunoterapia, proprio per goderci la libertà di svuotare per un attimo il cervello e vivere quello che stiamo vivendo. Quindi io dico sempre ai nostri clown, quando entriamo in corsia, che ne so, se con me viene Giovanni, oppure Simona, oppure Francesco, sto dicendo dei nomi a caso, dico questi nomi lasciateli fuori dalla porta e portate con voi solo clown tricks, clown razzo e entra solo clown lollo. Perché solo così riuscendo a lasciare fuori i problemi e tutti i vari condizionamenti, riesci poi veramente a divertirti, riesci ad entrare nella dimensione clown e riesci a lavorare benissimo per un'ora, un'ora e mezza, due ore, quelle che sono poi l'orario di corsia. E questo vi consiglio di provarlo almeno una volta nella vita, perché la libertà che dà la dimensione clown non la dà nessun'altra tipologia di sport oppure di volontariato o di quello che sia. Dà veramente la possibilità di ritornare ai bambini. E quando si indossa il naso rosso, io ho notato questo, che le persone sono ben disposte ad accogliere chi porta il naso rosso. Io sempre nei rispetti e nei limiti comunque del buon gusto mi posso permettere, quando indosso il naso rosso, di scherzare con un perfetto sconosciuto e questo sconosciuto mi accoglie in maniera bellissima. Perciò il naso rosso dà la massima libertà. Lo consiglio a tutti. Non prendersi troppo sul serio, questo aiuta. Io mi sono un po' allenato, potrei chiamarmi Luce Speed, mentre tu iniziavi a parlare. Io cercavo di imitare un po' Max Giobbiola, che se non sta fermo, perché adesso sta ogni tanto sparendo dallo schermo. Ecco, vedi, si è volatilizzato, continua a fare trick trick track track, non so cosa sta toccando. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Intanto, Lollo, io volevo chiederti, in tempo di Covid, insomma, voi vi siete inventati anche delle tecniche, no, delle tecniche direi di no, siete sempre voi, insomma, però delle modalità, ecco, alternative per raggiungere le persone, ecco, quindi per poter comunicare anche a distanza, come stiamo facendo peraltro adesso noi con, eccolo, è tornato, chissà se riusciamo a tenerlo un po' fermo. E quindi, insomma, parliamo un po' di questi clown a distanza. Spazi dedicati, soprattutto ai bambini, ma non solo, per poter avere un rapporto anche se non in presenza, insomma, un po' come si fa con lo smart working, anche voi avete fatto smart working. Esatto, noi abbiamo fatto, invece della DAD, noi abbiamo fatto la CAD, che era Clown a distanza. È stato molto divertente, perché proprio, innanzitutto, vederci noi clown, e questo era un, diciamo, un progetto pluridistrettuale, che ha coinvolto più distretti in Italia, e siamo arrivati a casa di tutti, nelle Marche, Lombardia, nel Lazio, abbiamo, durante il periodo Covid abbiamo girato molto. È stato un approccio, è stato un approccio totalmente differente da quello che si ha di solito in Corsia, però abbiamo visto che lavorandoci bene siamo riusciti comunque a creare un rapporto anche tramite, tramite computer, con chi stava dall'altra parte, che poteva essere il bambino, che poteva essere l'intera famiglia, perché abbiamo avuto intere famiglie malate di Covid, che abbiamo visitato, con bambini piccoli, bambini più grandi, non ci siamo, abbiamo fatto clown terapia anche a persone adulte, che però stavano, vivevano in isolamento. È molto importante questo. Max, Max Gibeola, stamattina quando l'ho chiamato al telefono, era serissimo, sembrava un presidente, un capitano di industria, adesso invece che si è messo nei panni del clown, cioè è un'altra persona, insomma, io stesso riconoscerlo, però mi piace più questo, con questo riesco a dialogare meglio, luce speed riesce ad avere un rapporto più diretto, mi crea meno imbarazzo, ma insomma, durante questo lockdown, avete fatto spesa solidale, siete andati nei centri bacionali, vogliamo parlare anche di questo? Sì, sì, sì. Innanzitutto vorrei soltanto brevemente collegarmi a quello che prima diceva Lollo, quindi al nostro modo di lavorare, sia nelle torsie degli ospedali, sia in altri ambiti, eccetera. La cosa difficile e importante, nello stesso tempo, per il clown, è quello di lavorare con quelle che sono le proprie emozioni, è quello che lo rende autentico, vero, quello che lo fa accettare dal suo pubblico, che può essere un bimbo piccolo, come può essere una persona anziana. Quindi tutte le volte che noi entriamo in contatto con il nostro pubblico, lo chiamiamo pubblico, ma ovviamente sono le realtà dove noi andiamo ad operare, la prima cosa che facciamo è quella di entrare in contatto con queste persone, respirare la loro aria. Questo ci consente di entrare in sintonia. Una volta che noi entriamo in sintonia, riusciamo con l'analisi dell'ambiente a capire cosa in quel momento è giusto fare. Qualcosa ci colpisce e andiamo ad agire. Può capitare, per esempio, che un giorno tu devi andare a fare una corsia di ospedale, però la sera prima hai litigato con la tua fidanzata, e sei nervoso, sei stanco. E quindi la mattina sei ancora stanco perché non hai dormito, e nervoso. E la mattina devi andare in ospedale. Ci sono due modi per agire. Il primo è travestirsi e fare finta di. Il secondo è quello di giocare con la tua emozione. Quindi, io quel giorno sono arrabbiato e sono triste. E quindi giocherò la mia tristezza e ciò mi renderà più autentico, più vero. E soprattutto i bambini si accorgono quando tu non sei vero e non sei autentico. Certo. E ciò che succede durante la nostra giornata d'ospedale non è altro che scimmiottare il girovisite che fanno i medici. E facciamo la stessa cosa. Perché il clown interviene dove c'è un ordine costituito. Lì dove c'è un ordine, lì il clown trova la sua essenza. Perché il clown guarda le cose da un altro punto di vista. Ed ecco che uno stetoscopio può diventare un qualcosa che ascolta il piede. da lì parte una musica e da quella musica parte una danza. E così via. È molto bello. Possiamo trovare a volte anche dei rifiuti. No, questo è importante. Lasciamelo dire. Mona Musi. Sì, sì. Un bambino a volte ti dice di no. E spesso può capitare. E il clown non deve sentirsi sconfitto quel giorno. Perché il suo compito, ecco, questa è la differenza per esempio che c'è tra un clown che lavora in teatro e fa uno spettacolo ed il clown che lavora in ospedale. Non è egocentrico. In teatro tu sei il punto di riferimento. Sei il centro. In ospedale no. In ospedale la persona più importante è il bambino. È lui che risolve qualsiasi cosa. Io non sono capace a fare qualcosa. Alla fine qui ci riesce il bambino. È lui che viene messo in primo piano. Perché? Perché quel tempo gli serve per allontanarsi mentalmente dalla realtà che sta vivendo. È molto bello quello che stai dicendo. Mi aveva condito il concetto dell'essere veri. Perché questo dovrebbe essere alla base anche, per esempio, del mio lavoro. Il clown gioca se stesso. Non è un attore che recita una parte. È lui con la sua emozione. Che in quel momento ha. Certo. E ovviamente si confronta con l'emozione del compagno. Perché noi siamo sempre in due. Ed è lì che comincia il gioco tra i due. Facendo poi intervenire ovviamente tutta la stanza. E noi non ci rivolgiamo solo al paziente. Ma ci rivolgiamo a tutto l'ambiente che lo circonda. Che è la famiglia. Che sono i medici. Che sono gli infermieti. Che sono le persone delle pulizie. E a volte riceviamo un no da un bambino. E lo rispettiamo quel no. Perché quel no in quell'ambiente di quel bambino è una delle poche cose che gli dà potere a quel bambino. Decidono tutti gli altri per lui. Quella è l'unica cosa che lui ha deciso. E allora lo rispettiamo. Magari ci torniamo più tardi. O magari cerchiamo di capire se quel no non è proprio un no. Ma se è un no andiamo via. Quindi insomma tenere conto di un insieme. Che poi è quello che facciamo anche noi in questo momento. Io posso avere un'idea. Però poi la posso anche cambiare in relazione a quello che mi sento dire. Quindi insomma diciamo giocare su quello che c'è. E non su quello che hai in testa. Se no diventi finto. Se no diventi finto. Certo essere veri era quello che mi aveva colpito prima. È verità. È vero. È tutto ciò che è autentico. Bisognerebbe sempre essere veri nella vita. E io lo dico in particolare anche ai giovani giornalisti. Che non devono indossare una divisa. Ma devono essere innanzitutto se stessi. Nella cosa che stanno facendo. Guarda ti faccio un paragone. Lo so che magari a volte posso. Però ti faccio un paragone. Pensa a una mamma di una certa età che cammina per strada e ha diciamo tiene per mano il suo bimbo. Camminano 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 passano vicino ad esempio a una stazione. È sera. Sono le nove di sera. E sulla destra c'è un barbone che dorme negli scatoloni. La prima reazione della mamma qual è? Allontanare il bambino. E cercare di cambiare marcia a piede o cercare di far evitare al bambino di guardare. Ok? E per il 90% è così. La reazione del bambino invece qual è? Il bambino si gira e guarda. E si chiede perché. Questo è il clown e questo è quello che fa l'arte o dovrebbe fare l'arte in generale. Il clown è una denuncia. Il clown è una denuncia sociale. Il bambino si chiede il perché. La mamma invece gira la faccia. Noi siamo qua a parlarne anche perché ci occupiamo di sociale. Altrimenti non sarei entrata in questa dinamica. Max, parliamo dei corsi dell'associazione Teniamoci per mano Onlus. Voi siete radicati, l'abbiamo detto, in tutta Italia. Come si articolano e dove si tengono? Beh, i corsi per noi sono una cosa molto importante perché non è semplice ad esempio entrare, non è semplice essere un clown dottore. Cioè tutti possono diventare clown dottore, però ci sono delle tappe da superare, diciamo così. Quindi non bastano le tecniche, non basta lo studio, ci vuole una certa predisposizione. Quindi che cosa succede? Noi teniamo molto alla formazione, teniamo molto alla professionalità, anche perché le utenze, cioè le persone alle quali noi ci andiamo a proporre, ne hanno bisogno, sono importanti. E se una cosa la facciamo male, non ha senso, non ha senso. Studi scientifici hanno portato a capire che la clown terapia, l'arte del sorriso, la gelatologia, quella che mette insieme il sistema immunitario, il sistema endocrino e il sistema nervoso, interagiscono tra di loro e l'umore fa bene a quella che è la tua degenza, a quello che è il tuo approcciarsi alle terapie. Se però tutto ciò viene fatto male, non serve a niente. E quindi noi puntiamo molto e crediamo molto sulla formazione. Quindi la nostra formazione è strutturata in questa maniera qua. C'è un calendario che viene pubblicato periodicamente con dei corsi base. Questi corsi base si occupano di fornire l'ABC, che sono tecniche sia psicosocial-sanitarie, sia artistiche. C'è molto lavoro sull'ascolto, sull'empatia. Dopo questa prima fase il clown viene introdotto nel proprio distretto di appartenenza. Lì viene accolto dal proprio distretto e viene affiancato da un clown esperto, che noi chiamiamo tutor, o il tutor di corsia, che lo accompagnerà poi in questa sorta di tirocinio, che farà sempre accompagnato da qualcuno. Questo sia per proteggere le persone alle quali ci rivolgiamo, sia per proteggere il clown stesso. Quando poi ovviamente il clown si sentirà pronto e dopo che avrà fatto un percorso che è composto da ore e attività, sarà pronto a camminare con le sue zampette. Dopo questo primo corso base c'è un corso avanzato, che aumenterà quelle che sono le competenze, soprattutto artistiche. Quindi il clown inizierà a entrare un po' più dentro quella che è la storia del clown, da dove arriviamo. Come mai il clown adesso è questo? Come si è evoluto nel tempo? E cominciamo a capire quali sono i tipi di clown, come giocano tra di loro, come mai una struttura funziona e una struttura non funziona, come si fa la costruzione del numero, qual è il giusto trucco, qual è il personaggio che alla fine poi viene fuori. Perché tutto il percorso che viene fatto, soprattutto nella seconda fase di questa formazione, è la fuoriuscita del tuo personaggio clown. Perché ognuno ha un personaggio, ognuno ha giocato un qualcosa di suo e soprattutto con le proprie debolezze, con le proprie fragilità, con le proprie... Ecco, con queste cose qua. E invece di vergognarti, le fai il tuo punto di forza. Certo, che è quello che poi incontra anche l'altro, perché quando tu metti in risalto la tua debolezza è che sei più vicino a chi ti guarda. Clown Lollo, il personaggio Lollo, che è responsabile del distretto di Frosinone, come lancerà la sua campagna quando si comincerà a Frosinone a fare questi corsi. Insomma, poi ovviamente le date le potete ricavare anche dal sito dell'associazione. No, ce ne ho io le date. Ah sì? Sì, sì. Dopo ce le dai. Allora, Lollo, cominciamo da Frosinone, visto che siamo nel Lazio qui e comunque insomma... Sì, sì, su Frosinone faremo il corso Clown per il 2021, faremo il 4 e il 5 dicembre. Ma le iscrizioni? Ah, già adesso si può cominciare a... Si può già prendere contatti con il distretto centrale, stiamo facendo girare una locandina e si possono già iniziare a prendere contatti. Il corso si farà in provincia di Frosinone, sarà un corso di due giorni, sabato e domenica. consiglio a tutti di farlo anche solo per provare questa emozione, perché il corso è un primo momento, un primo approccio, però è qualcosa... Io non scorderò mai il mio primo corso Clown, quello che poi mi ha portato e mi ha inserito in questo mondo, perché si crea un'unione già con il gruppo, con il tuo stesso gruppo, che è qualcosa di bellissimo. Trovi persone che magari ti confidano durante il corso, delle cose che non hanno detto mai nessuno in famiglia, però si arrivi ad un punto, ad un'empatia con il tuo vicino, che è qualcosa di meraviglioso, gli vai a confidare qualcosa che non pensavi avresti detto mai a nessuno, in quell'occasione lo vai a confidare. Quindi è un momento di confronto, di pianto, di allegria, di risate. Durante un corso può succedere di tutto. E poi da là si inizia veramente un bellissimo cammino. Come diceva Max prima, poi c'è tanto studio, perché non ci fermiamo solo al primo corso. Dopo il primo corso, che può già iniziare a portarci in corsia, accompagnato da un tutor esperto, inizia tutta una serie di percorsi. Poi sta a noi decidere se crescere, se far crescere il nostro clown, oppure se rimanere... Diciamo che tutti quelli che hanno fatto il corso con me, che comunque continuano nel mio distretto, hanno scelto quello di formarsi. Perché ogni corso ha la sua magia, ha la sua eleganza, ha la sua bellezza. Te l'ha fatto Max il corso? Il primo corso no. Non ancora? No, 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 Max non vedo l'ora di fare il corso sulle strutture di gioco. Si sta spogliando qui il nostro Max, vedo che comincia ad avere caldo, eh? Per cui si sta scaldando. Sì, io non vedo l'ora di fare il corso con Max, perché altri miei colleghi hanno fatto il corso con lui e sono rimasti affascinati dal suo clown. Quindi non vedo l'ora di fare... io ne ho fatti altri con altri formatori, però non vedo l'ora di fare il corso con lui. Max, le date? So che hai un lungo elenco, quantomeno ci dici le città? No, 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 no. No, non ce ne dici no. Al momento non è molto lungo, nel senso abbiamo delle date, altre le stiamo ancora, diciamo, pianificando, anche perché, come hai detto prima, usciamo da una situazione dove siamo stati fermi e ci siamo dovuti inventare le peggio cose per poter entrare, diciamo, in attività e aiutare chi ne aveva bisogno. Quindi adesso piano piano stiamo cominciando e quindi al momento le date fissate sono queste qua e parliamo dei corsi base, cioè il primo livello. Poi, diciamo, quelle altre, sempre dei corsi base delle altre città italiane e quelle dei corsi avanzati usciranno un po' più avanti. Al momento abbiamo, come diceva Lollo, Frosinone il 4 e il 5 dicembre. Abbiamo un corso che si farà a Bologna il 16 e il 17 ottobre, un corso che si farà a Venezia il 29 e il 30 gennaio, poi abbiamo lo stesso weekend a La Spezia, lo stesso weekend a Grosseto e parliamo sempre del 29 e del 30 gennaio. Il 26 e il 27 novembre siamo al distretto di Milano e il 6 e il 7 novembre il secondo corso che faremo a Roma, il primo già l'abbiamo fatto qualche settimana fa. A Ferrara? A Ferrara? La mia città? C'è? Ferrara? Ferrara? Cioè, Ferrara... Eh, mi sembrava. Siamo sopra su Ferrara. Ferrara ci lavoreremo sopra. Va bene. A Ferrara magari ce l'abbiamo già. Claudia Spiti ce l'abbiamo. Eh, io avevo letto qualcosa. Forse... Ferrara in quel giorno, al momento probabilmente gli uffici della segretaria generale la coordinazione dei corsi, non so se non me l'ha dato, oppure al momento queste sono le certe, quindi... Io ti... Comunque qualsiasi informazione voi la potete tranquillamente trovare sul nostro sito, teniamoci per mano... Tipo... Il sito, teniamoci, diciamolo bene chiaro, le informazioni sul sito... Bu, 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 teniamoci per mano onlus.net. Perfetto. Come anche tutti i distretti hanno la propria pagina su Facebook, quindi potete seguire le attività che vengono svolte a livello locale dalle varie realtà e poi abbiamo un sito nazionale, quindi una pagina nazionale sempre su Facebook. Il numero di telefono per qualsiasi informazione è 081-1875-9100. Ripetiamo? 081-1875-9100. No, ma che ci piace sentirtelo dire, che tutto ci divertiamo a guardarti. Senti, ecco, poi per quanto riguarda, diciamo, i costi dei corsi, questo lo voglio precisare, insomma, sono rimborsi spese perché voi lucrate su queste attività e poi insomma uno dà anche quello che può, no? Se non può e quindi... Magari se potesse, però non si può. Ecco, giusto per, insomma, anche perché anche Amnil è una onlus, quindi noi promuoviamo l'attività, ma insomma non... Certo, no, no. Voglio prima di chiudere una parente. Una parente? Nel senso... Allora, la formazione è importante e la formazione, soprattutto in questo campo, costa. Perché? Perché tutto ciò, soprattutto di artistico, che viene insegnato, viene insegnato e tramandato da clown in clown. non c'è un corso, non c'è una scuola che prepara i clown, ma c'è un clown anziano che insegna a un clown più giovane. Quindi, tutto ciò che un maestro sa, ovviamente, se lo tiene, diciamo, per i pochi e quindi i corsi, ad esempio, che ho dovuto fare io e con piacere anche, non mi so cosa di 20 euro al giorno, ma parlo di cifre incredibili. Ovviamente, io da due, tre anni che sono in questa situazione, quindi, però facevo il clown anche prima, ho deciso di fare il clown perché ho sempre fatto un po' di volontariato nella vita, perché mi piace dedicare un po' del tempo libero in maniera gratuita e disinteressata a qualcun altro. E quindi, tempo fa, incontrando il nostro responsabile nazionale di clown terapia, Edoardo Quinto, mi propose proprio questa cosa qua, perché non è che entri nella nostra situazione e ci dai una mano e stai con noi, eccetera, eccetera, gli sono entrato e ovviamente non è che lucriamo sui volontari e chissà quanto ci prendiamo. I costi, ovviamente, del corso base comprendono ciò che è quasi necessario, cioè l'assicurazione, comprendono il kit del clown che è un naso, che è il camice, che è la maglietta, comprendono il tesserino, un po' di cose, diciamo, e eventualmente è un rimborso spese se ci sono delle spese da sostenere, così come i borsi avanzati. Ok. So che voi avete anche fatto delle donazioni, l'anno scorso, c'è stata quest'anno, per la verità, la maratona del sorriso, no, Lollo? avete finanziato strutture importanti anche a livello ospedaliero? non finanziarlo, abbiamo proprio comprato noi i pezzi e li abbiamo portati. Ah, proprio fisicamente. No, esterno si perdevano i soldi. Lollo, a Flosinone cosa avete fatto? Allora, a Flosinone sono due anni che facciamo donazioni, il primo anno abbiamo acquistato delle poltrone relax per i genitori che vanno ad accudire i figli in reparto perché le poltrone erano tutte rotte, il responsabile di pediatria ci aveva confidato che, e lo stesso modo gli infermieri ci avevano confidato che erano diversi anni che cercavano di ottenere nuove poltrone e alla fine siamo intervenuti noi, abbiamo preso otto poltrone relax, quattro le ha prese un'altra associazione quindi abbiamo coperto quasi tutti i posti letto. Quest'anno invece grazie alla Maratona del Sorriso abbiamo un po' ampliato e siamo riusciti ad acquistare un macchinario che serve per la misurazione del feno, dell'ossido nitrico. Praticamente grazie a questo macchinario si riesce a capire se la terapia che viene data ai bambini che soffrono di asma sta funzionando oppure no. Perciò ci sentiamo molto orgogliosi di questa cosa perché è un macchinario che potrebbe veramente salvare o comunque migliorare la vita di un bambino in ospedale. Ci siamo inventati di tutto, abbiamo messo i salvatanai in giro per i paesi, abbiamo fatto dei banchetti a mercato, abbiamo chiesto amici, a parenti, ci siamo inventati veramente di tutto. i nostri clown non hanno smesso un giorno di correre su e giù per la provincia di Frosinone cercando fonti per acquistare questo macchinario e prima ancora per acquistare le poltrone relax. Sono stati tutti bravissimi e devo dire che sono veramente orgoglioso di ognuno di loro perché alla fine siamo riusciti per il secondo anno a chiudere il progetto e a fare la donazione. Max Gebiola parlo al formatore dei formatori insomma che cosa c'è nel DNA del clown dottore ma faccia un po' fami sorridere improvvisa. Amore, umorismo, tristezza abbiamo sentito tutti i sentimenti che fanno parte della complessità della persona inventati qualcosa. C'è un po' di tutto. Facca. C'è un po' di tutto. c'è un po' di tutto intanto concludo solo una cosa con Lollo ovviamente Frosinone e anche tutti gli altri distretti hanno collaborato e hanno contribuito a far sì che le varie strutture sanitarie italiane avessero diciamo delle cose per esempio ci sono stati dei letti ci sono stati appurano del poltrone ci sono stati dei macchinari tutte cose ovviamente concordate con le necessità dei vari reparti non è che l'abbiamo inventato noi abbiamo chiesto quello che era per loro più necessario al momento e che avevano difficoltà ad acquistare con i soldi diciamo regionali e siamo intervenuti noi per quanto riguarda il DNA non credo ci sia ci sia qualcosa di particolare da avere io penso sempre che ogni persona ha un po' di buono e un po' di cattivo il clown il clown dottore è un clown che si traveste da dottore che cosa vuol dire è che questo è proprio diciamo è come è proprio l'esempio della clown terapia e della e dello stereotipo diciamo perché molti identificano la clown terapia con non so se tu l'hai mai sentito lo conosci ok non personalmente sì ok 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 certo molti sostengono che la clown terapia sia stata inventata da Patch Adams ma in realtà non è così Patch Adams è soltanto colui che l'ha fatta conoscere ma in realtà la clown terapia nasce da un clown è un clown statunitense che lavorava e lavora al Barnum lavorava perché non c'è più al Barnum Circus e lui è un clown che si travesse da dottore mentre Patch Adams è un dottore che si travesse da clown va bene quindi questa è una delle differenze e l'altra differenza è quello che loro due seguono per arrivare alla meta uno sostiene che la formazione sia molto importante per approcciarsi a certe realtà l'altro invece sostiene che basta un po' di spirito d'allegria due guance rosse e si può andare in corsia ok noi ovviamente sposiamo la teoria che la formazione è importante quindi che cosa deve esserci nello spirito di un clown dottore deve esserci soprattutto perché la prima cosa che deve esserci dentro è la voglia e l'importanza di comprendere che fare del volontariato è un qualcosa di positivo che fa bene a se stessi e che fa bene alla società poi se tu senti che per te quello di fare il clown dottore è ciò che tu senti di fare bene questo poi si andrà a vedere anche perché guardare un clown dottore che fa il clown dottore è bello e può essere facilmente si può pensare facilmente di imitarlo ma quando invece poi ti trovi a dover fare il clown dottore magari ti puoi accorgere che invece non è così semplice come quando tu vai a guardare uno spettacolo di un clown dici guarda quello che cretinata ha fatto è vero noi facciamo delle cretinate però se ti chiedo di rifare la mia stessa cretinata tu hai delle difficoltà quindi che questo con questo che cosa voglio dire è che nella nostra associazione possono entrare tutti noi faremo in modo che e facciamo in questa maniera ascoltiamo guardiamo e confrontiamo le potenzialità di ognuno e se tu non sei diciamo per il momento pronto o idoneo a fare un certo tipo di lavoro come per esempio quella più complicata è andare in corsia quindi andare in ospedale non è detto che non puoi restare in associazione o poter fare cleonterapia in un altro ambito ad esempio puoi avere le difficoltà a stare nel reparto ospedaliero ma puoi andare benissimo ad esempio ad andare dai nonnini e passare un po' di tempo con le persone anziane che sono in ospizio o il contrario o ancora un'altra realtà quindi tutto ciò che diviene nel tempo fa sì che tu poi trovi la tua giusta collocazione sia nell'associazione stessa sia con te stesso anche perché poi non devi frustrarti se non riesci poi a raggiungere un obiettivo che ti eri prefissato perché perché ripeto non basta studiare devi avere comunque ha parlato ha parlato il presidente il messaggio è chiarissimo Lollo allora questa gag me la fai tu? bellina questa cosa della gag voglio solo aggiungere una cosa a quello che diceva Max perché adesso che iniziamo a cercare a reclutare persone poi per il corso di dicembre spesso mi sento dire da amici o comunque da conoscenti ah ma sai io non sarei capace di fare quello che fai tu ah ma sai no ma io non mi ci vedo ah ma sai no ma io non allora non è assolutamente così perché come ho detto prima quando noi andiamo in corsia non quando entra Lorenzo e poi diventa Lollo non significa che entra l'attore di scena che inizia a recitare un monologo di due ore assolutamente no eh funziona la semplicità ma soprattutto la cosa più importante è esserci perché spesso la cosa di cui si ha bisogno è della presenza quindi il nostro essere lì serve da valvola di sfogo per il genitore che magari sono 48 ore di seguito che vede solo ed esclusivamente il bambino che va di corsa a prendere un caffè alla macchinetta mentre il bambino sta dormendo con la paura che si possa svegliare allora spesso noi magari che cosa facciamo guarda se vuoi vai a prendere un caffè stai tranquilla fai una chiacchierata al telefono con il tuo marito noi siamo qui con il bambino lo facciamo disegnare e soprattutto cosa importante è sempre il bambino che decide il gioco che comunque dirige e noi siamo lì a volte succede che il genitore con la giacca e con la gravatta gli dai la chitarrina la mini chitarrina e lo fai suonare e tu dirigi l'orchestra insomma diciamo che torna il concetto del teniamoci per mano questo è il ricordo che bisogna riproporre anche quando voi siete nel ruolo ma continuate a essere voi stessi però ci togliamo il naso per un attimo così ci salutiamo no? non ce lo togliamo ecco vedi alla fine niente non posso chiedere niente io quando faccio i corsi è una delle cose che dico allora se io adesso mi tolgo il naso finisce la magia ecco noi dobbiamo comunque chiudere questo intervista adesso mi hai conosciuto come il clown che è stato con te adesso il clown che andrà via se io mi tolgo il naso davanti a un pubblico non va bene anche questo anche questo fa parte del gioco noi purtroppo dico purtroppo perché mi sono anche divertita molto guarda ci dobbiamo salutare guarda ti insegno una cosa è arrivata la gag guarda guarda non so se lo sai fare no soffia due fantastico la magia la magia l'abbiamo fatta la magia io io vi ringrazio insomma e vi auguro di continuare insomma a divertirvi divertendo e anche dare sollievo a tante persone con la vostra associazione la ripetiamo teniamoci per mano onlus al servizio quindi di chi sta attraversando un momento di difficoltà allora un saluto a Max Cebiola e un saluto anche a Lorenzo Pelloni detto Lollo ciao ciao a tutti